A posto signora Questi sono di un artista belga che li produce anche in versione gigantesca e queste sono le versioni smola e loro vengono tampe a casa, tampe specifico ok, ci sono queste tre sì, no, poi tre in negozio ci siete no, no, è stato uno studio uno studio? ma lo ti devo chiamare qui ok, lo vedo inizio grazie 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 grazie